Salve, non capisco, il napoletano ha un problema con le lingue straniere, dove vuole che la porti, non lo so in un posto dove la gente allegra si diverte, faccia lei Che dice, spegniamo? Che cosa? La sigaretta, spegniamo? Perdon? Ma è massa nervosa oggi, chissà di chi è la colpa, costolette di agnello in salsa di miele cotogne, lui già cucina per te, per cortesia mamma io ho bisogno di stare solo, scusami mi dispiace deluderla, ma io e Enzo non siamo una coppia Quanto costa Rosen? Sette euro Ah, sei italiano? Napoletano Ah, euro cinque euro, basta Pule rose Tieni Piccolo pensiero per te Padriano, se non te ne vai, ti chiudo nella stanza delle colonoscopie Guarda che non sono così cattivo, sai Le donne, in fondo, sono persone Tu ti agiti troppo E tu ti agiti troppo poco E non ce l'ho un indirizzo, non ce l'ho Ti dicono niente le parole disturbo, no scusa, mi sono dato una botta forte sul microfono A fare fatto Oh A fare fatto A fare fatto A fare fatto Grazie.